Prima di far accendere i fuochi d'artificio, quelli che devono essere acquistati soltanto nei negozi autorizzati e quindi fuochi d'artificio legali da parte degli adulti. E quindi i bambini assistere all'accensione e da parte degli adulti di rispettare le norme d'impiego di questi fuochi d'artificio che principalmente devono essere utilizzati all'aperto. Poi alcuni accorgimenti, vale a dire quelli di tenere tutte le aperture, quindi finestre e porte chiuse durante la mezzanotte per evitare che poi qualche sconsiderato che utilizza invece fuochi d'artificio illegali possa poi dopo danneggiare e far entrare questi fuochi nelle abitazioni. Quindi bisogna essere responsabili a partire dagli adulti affinché quel bellissimo momento che caratterizza il passaggio dall'anno del 2016 al 2017 sia vissuto da tutti quanti in sicurezza.